Con il taglio del nastro del presidente Enza Marrone e del sindaco Rocco Giuliano e con la benedizione di Don Paolo Longo è stata inaugurata la sede dell'Associazione Commercianti Artigiani Pollesi nel Parco Iqbal nel cuore di Polla, una sede operativa che per ora fungerà da Infopoint e poi diventerà man mano sempre più punto di riferimento degli associati e di chi si vuole avvicinare all'associazione. La presidente Enza Marrone ha spiegato le ragioni dell'associazione e della sua nascita, mentre il vicepresidente Pasquale Cancro ha illustrato il progetto natalizio che vede l'associazione protagonista con altre associazioni di Polla come il Comitato Santoninello e i ragazzi del Ponte. Abbiamo preparato un giardino incantato e un villaggio di Babbo Natale per trascorrere uno splendido Natale insieme a Spiegato Cancro. L'associazione dei commercianti che occorre raggiungere è stata voluta con forza dalla presidente Marrone e da molti altri commercianti, soprattutto giovanissimi, per cercare di rilanciare il settore e fare squadra per affrontare le difficoltà. Un'associazione nata dal basso, ovvero dei commercianti stessi e chi si professa fuori da logiche politiche e partitiche. Un punto molto caro soprattutto al presidente Marrone.